non è solo una torta fida un incantesimo 180 grammi di farina 150 grammi di zucchero 2 uova il lievito e 250 grammi di panna montata senza zucchero ma andiamo alla nostra ricetta adesso farò apparire gli ingredienti al fatto che abbia imparato l'incantesimo qui c'è scritto fatti aiutare da un adulto ma io sono un adulto magic wishes che mi ha chiamato in ogni adulto c'è un bambino interiore quindi contestualizzando questo deduco che tu sia il mio aiutante o viceversa sempre con molta attenzione speriamo che con questa torta tutto torni come prima ma guarda dom giù Noi abbiamo usato la panna senza lattosio e quindi anziché utilizzare il burro abbiamo utilizzato il burro di ghi. Trovate il video qui sotto nelle descrizioni. Lì vediamo. 170 gradi a seconda del forno, 40-45 minuti. Viene la collina. Sì. La bontà che stiamo per assaggiare. Grande. L'assaggio. Wow. E' cioffi cioffi. Cioffi cioffi. Mi sento un po' strano. Così le mettiamo ancora più magiche. Mi sento un po' strano. E' ciò che è? Ma ci può stare. Grazie.